Ma che bastone era quello? Un ferro 2 Una specie di ferro 1 Colpo straordinario La bandiera! Togli la bandiera, Ardy! Sì, signore! Juna fece un eagle Recuperando due colpi alla prima buca Così! E recuperò un altro colpo Quando Jones arrivò alla seconda Con un colpo in più del necessario E altri due su Egan Che arrivò alla terza buca Con due colpi in più A te sembrano 180 metri? No Sono 181 La giochi appena un po' più sul piede destro Rispetto al normale E' un po' più sul piede Una buca in uno Caspita Ho visto un miracolo Con i miei occhi Una buca con un colpo Maás rispetto al contrario A te sembrano A te sembrano Giorgio Caspita Ate Ate Giorgio Ate